Quindi, come ci accennava Giuseppe, ascolteremo alcune letture e di mia scelta ho avuto il comitato di scegliere di Bruno Marcini, che giù nella domanda. Grazie. Ancora mi chiama la voce della cultura, un po' divino, vagante, tra le vecchie sentanti, stante ti ho sognato. Il barbido, un eccesso, il mombo d'amazzolo è già mai recluso. Non basta usarti da gioare, a capire dalle parole a state, i movimenti, i suoni, i provamenti, gli sguardi, gli impi, gli odori, l'api, la scelta di una calzone da loro. Non basta un incantissimo, per dare un accesso all'altro avvento del cuore di una donna, a questo pezzo di somma. Stamane ti ho sognato, le coccole nel mare profondo, che poi risulta di statura appassionata. Stamane ti ho sognato, le coccole nel mare, l'acido, si meravigli, che venga la vita. . . . . Grazie.